Allora, eccoci qua, buonasera a tutti ragazzi, avevamo promesso che facevamo un computer di quelli ciccioni e guardate che più ciccione di questo, veramente, è una macchina che sta a circa 3.000 euro? Circa 3.000, sì. 3.000 euro, ragazzi, vabbè, a parte che immagino che più o meno tutti li conoscete, come vedete qua in fondo, laggiù, vedete, ci sta pure un componente che di questi tempi, ragazzi, per trovarli, assurdo. E' vero, merito suo, merito suo. Ragazzi, questo è veramente ciccione, abbiamo detto circa 3.000 euro. Non ci perdiamo in chiacchiere perché già il montaggio richiederà diverso tempo, quindi noi e Fabio ci diamo il passaggio, vi diamo una velocemente, un'idea di quelli che sono in componenti, anche se li avete visti, e poi passiamo direttamente al montaggio. Quindi, vai Fabiotto, fai di... Bene, facciamo subito una carrellata di componenti che andiamo a montare. Iniziamo con un bel inove... Scusami, Ressandro, ti ho fatto partire la pivoria RAM? Ma ci mancherebbe... Perché è la velocissima, ragazzi, è veloce la RAM. È la più veloce che c'è. L'ho presa a volo. Chiaro. Allora, ragazzi, io me lo sono un attimino appuntato perché i componenti sono tanti, le idee ne abbiamo tantissime, quindi è meglio non sbagliare. E la memoria è poca. Benissimo. Andiamo con una CPU i9 della serie G, decima di generazione, parliamo, quindi un 10.850. Vai Ale. Allora, come RAM ce l'abbiamo di là, vero? Ce l'hai tu, mi sembra. No, la RAM ce l'hai quella che corrigo là. Ragazzi, le RAM... Ah, già, era quella che corrigo, è vero. Le RAM, cosa dire, Corsair, Vengans, 2x16 in dual channel, 32 giga totali. Cioè, sulle Corsair, credo, ragazzi, specialmente le Vengans, proprio non si può dire nulla. Stracollaudate e straaffidabili, quindi è inutile che aggiungiamo altro. Bene, andiamo con... Lo metto qui davanti. Un hard disk M.2 XPG, che poi vi daremo delle caratteristiche un pochino più dettagliate, quindi la velocità di lettura e scrittura del disco che è importante per questo. Sempre RGB perché, come tutta la macchina, in realtà, insieme al suo cabinet e il resto, il cliente lo vuole tutto che sia RGB. Per quanto riguarda il raffreddamento della macchina, quindi del processore in particolare, logicamente ci affidiamo a Corsair, quindi come le RAM, come la ventola che poi vi faremo vedere, quindi sempre iperaffidabilità, è il modello EQ H115E Elite Capellix. Ragazzi, andatevi a leggere le recensioni di questi componenti e così vi rendete conto di che computer ciccione siamo andati a montare, soprattutto molto affidabile. Ragazzo si divertirà molto, sono sicuro. Bene, andiamo avanti e andiamo a montare, sempre della Corsair, perché abbiamo cercato di creare un kit per il nostro cliente, ed è un 750 Watt modulare, sempre anche lui RGB. Ammazza, ragazzi, tutto è RGB, questo ragazzo si diventerà veramente tanto. Poi, passiamo ai pezzi, quelli proprio top. Qui abbiamo una motherboard dell'Asus, che la vedete, eccola qua, che è l'ultimo modello, è inutile che ve lo diciamo, sono la serie Z590 Plus dell'Asus, il modello TUF Gaming, quindi il fatto stesso che il nome dica gaming, è inutile che specifichiamo che questa è una macchina che è predisposta per il gaming, non solo, ma come ormai tutti sapete, se è una macchina predisponiamo per il gaming, diciamo che al 99% ci potete fare qualsiasi cosa. Quindi, sulla Z590, appena uscita, iperprestante, ragazzi, solita recensione per andare e più nel particolare, andatevela a reggere. Poi, credo che rimanga, mi sembra, l'ultimo pezzo, il top. Che è quello che in questo momento, purtroppo, non riusciamo a reperire sul mercato, perché sappiamo tutta la dimotivazione, quindi quello che siamo riusciti a trovare, l'abbiamo acquistato. Quindi abbiamo trovato un RTX, una 3060 Ti, questa ha 8 giga di RAM, GTDR6, ed è la iChill by della Inno3D, è un'azienda che produce schede e fa anche altro, insomma, come memoria RAM e il resto dei componenti. Ma noi abbiamo avuto già a che fare con la casa. Sì, sì, una bella casa. Certo, non è la casa iperconosciuta come l'Asus, ma come affidabilità. Poi, ragazzi, qui c'è poco da fare tanto con la puzza sotto il naso, perché tanto non si trovano. Quindi, già aver trovato una scheda di questo livello, comunque, chipset Nvidia, e comunque, affidabilità di questo livello, ragazzi, fidatevi, che il ragazzo non è contento. I più. A voglia, a voglia. Ah, non è qui sopra, perché ingombra un pochino, quindi non eravamo nel nostro spazio. Abbiamo finito. Un case della Corsair, che adesso vi mostreremo quando faremo il nostro montaggio. Bello, ragazzi. Anche lui, appunto, Corsair. Bello, ragazzi, viene fuori un computer pazzesco. Schiudiamo al volo, i componenti ve li abbiamo illustrati, passiamo subito al montaggio, perché tanto quello è già di per sé piuttosto lungo. A frappi. Questo è lo chassis. Avete visto che abbiamo tolto tutto? Questo è il nostro chassis. Che spettacolo. Eh? L'ho messo sul piatto girevole, lo giriamo con un detino. Guardate che bell'effetto che fa. Ragazzi, questo è un Corsair. Non è plastica, è cristallo. Cristallo. Sì, cristallo. È diverso. È diverso. Retina, non zanzariera, ma antipolvere per raffreddamento al liquido. Ragazzi, noi non siamo debolucci, ma vi assicuro che pesa per pesare. Cioè, qui parliamo di una qualità di quelle serie. Adesso, quando Fabio vi dice il modello, capite pure di che livello, di che qualità stiamo parlando. C'è il nostro cabine? No, eccolo qua. Bravo, io non me lo ricordo perché ormai la, come si dice, la memoria, eccolo qua. No, no, no. È un EQ 4000 X RGB. Questo è della Corsair IQ 4000 X RGB. Questo era l'ultimo vestito. Bene. Passiamo al montaggio. Vi faccio notare subito. Buono. Doppio disco SSD da montare sul nostro posteriore. Eh? Abbiamo la posteriore perché è l'altra parte, altrimenti era laterale. Sì, è laterale. L'alloggiamento per il nostro disco. Alloggiamento per i due eventuali dischi da 3 pollici e mezzo da inserire all'interno della macchina. Certo. E abbiamo poi le tre ventole già montate della... Folle vedere. Perfetto. Eccole qua. In questo qua. Sono le tre ventole RGB già del nostro chassis. Non c'è la ventola posteriore, ma che l'abbiamo acquistata, ve l'ha detta prima Alessandro da mettere qui dietro sempre RGB, sempre della Corsair. Full. Adesso andremo poi a mettere il pump ad acqua che verrà montata dalla parte sopra, da questa parte. Ok? Aspetta, fermo così che noi gli abbiamo detto che abbiamo anche sul cabinet questi nuovi, l'USB C 3.2, quelle nuove, e l'USB quest'altra qua che è appunto sempre le 3.0. Quindi considerate che il cabinet è nuovo sotto tutti i punti di vista. Certo. Questo non ve l'avamo detto. Bene. Ora cominceremo ad andare... Togliamo il nostro cabinet, apriremo la nostra scheda mate per andare a inserire subito la CPU e la RAM a bordo. Via con il montaggio. Allora. Che spettacolo, ragazzi. Vi volevo far notare una cosa. Di solito sulle motherboard di fascia leggermente più bassa... Grazie Ale. Sì, prego. Allora, abbiamo il frame che si va ad alloggiare sul nostro chassis come appoggio. Di solito sono già smontati, vengono dati a parte un lamierino, diciamo, tra virgolette. Questo invece Asus ha pensato già di mettervelo già impostato. Lo vedete? Certo. Adesso facciamo lo zoom poi. Benissimo. Mentre montiamo, guardate che cos'è, ragazzi. Allora, Carlo Alessandro, se tu mi vai dall'altra parte... Ti faccio uno zoom, sì ragazzi, aspettatevi se qui ci vuole. Così vi faccio vedere qualche cosettina. Sì, 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 aspetta, aspetta. Innanzitutto parliamo di una particolarità, cioè che Asus ha dotato questa scheda della dissipazione su dei condensatori che sono veramente molto importanti, che sono una, due e tre. Qui abbiamo la parte del nostro chipset, quindi abbiamo dei condensatori raffreddati ai livelli massimi per la nostra scheda, proprio perché ha una scheda che può essere overclockata su vari punti, quindi memoria, ram e quant'altro. Allora, che cosa vi volevo far notare anche? Intanto le porte che ha davanti, adesso ve le mano a mano ve le porta avanti, così potete vedere anche voi. Eccole qua. Guarda che roba ti è. Ok, quindi abbiamo audio ottico, quindi un 6.1, abbiamo l'USB tipo C, USB 3, ok, rete gigabit. Schede audio spettacolari. Displayport e HDMI già montate a bordo. Ancora noto su tutte le schede che stanno rimettendo ancora, non capisco il perché, ma forse per mantenerci qualche USB in più, la tastiera e il mouse che si possono montare ancora sulla PS2. Quindi ancora siamo, diciamo, vincolati da questa piccola, non lo so, chiamiamola... Questa è una cosa che ci dobbiamo andare a vedere, perché ultimamente... Storia, ok, per me è diventata storia anche quella. Allora, guardate qui, barra di alluminio, una, doppia barra di alluminio, molte persone mi domandano a che servono. Sotto questa barra lunga ci sono due alloggiamenti per mettere degli M2, quindi dei dischi M2 sotto. Che vengono raffreddati. Che vengono raffreddati, quindi vanno a contatto con questa piastra di alluminio e vanno a raffreddarsi. Stessa cosa su questa, qui ne abbiamo uno. Allora, visto che oggi noi andremo a montare invece un disco M2 ma RGB, lo andremo a nascondere se lo andiamo ad inserire sotto queste piastre. Quindi una di queste piastre, purtroppo, ahimè, la dobbiamo eliminare. Se no, non si vedrebbe l'RGB, è chiaro, è chiaro. Allora, le porte a bordo sono classiche, sono due PCI Express di nuova generazione per montare anche delle schiate grafiche in Sly, due mini PCI, le porte USB, USB 3, quattro dischi da montare a bordo, più due che sono qui sopra, che ve le farò vedere da quest'altra parte, eccole, le vediamo in questo momento, eccole qui queste due. Ora aspetta, posso anche stringere un pochino? No, no, ci siamo, ci vedono benissimo, come no, voglia. Benissimo, USB 3, quindi la scheda è dotata di tutte le porte possibili e immaginabili. Adesso cominciamo con la prima cosa, di andare a montare il nostro processore. Che in questo caso, rispetto a quella dell'altra volta... Che l'altra volta abbiamo montato un MD, oggi andiamo a montare una serie in nove, come vi abbiamo detto, di decima generazione, direttamente sul nostro socket. Facciamo un'opera per voi. Lo vedono meglio, no? Guardate, io adesso, senza fare nulla... Piro indietro, si alza il castelletto... Ho fatto una macchina. Innanzitutto, vi faccio vedere se mi muovo tutti i piedini del nostro socket. Bravissimo. Vi farò vedere anche come alloggiare questo tipo di processore su questo tipo di socket. Vedete questi dentini qua? Eccolo là, bravo. Eccolo uno, l'altro è sotto qui? Esatto. Perfetto. Abbaio con il ditone, vedete questa scala natura e questa scala natura, lo vedete ragazzi? Eccole qua. Queste sono le due scala natura che adesso Fabio vi fa vedere dove vanno incastrate. Adesso li andrò a montare direttamente nell'apposito socket. Presumo che ci arriverete per logica, infatti. Chiaro. Devo fare con molta calma perché giustamente sono in una posizione... Eccolo qua, vedete? Perfetto. Quindi state vedendo come è stato messo, vedete il dentino? Eccolo là. Ecco qua. Quindi è stato posizionato nella tacca della nostra CPU. Adesso Alessandro farà uno zoom e lo farà vedere. Guarda come si vede. Ecco i due dentini, li vedete benissimo. Ok. Eccolo là. Perfetto. E l'opposto, lo vedete? Andiamo a riposizionare questo. E di Mirandi... Automaticamente si leva anche il cassettino sopra, il coperchietto. Ora andremo a montare il nostro disco. Tactrix 540G. Ora Alessandro, se mi fai uno zoom sulla motherboard, ritorniamo sulla protagonista in questo momento. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni. Lo faccio vedere. Adesso andrò a montare questa barra. Ok? Scusatemi se non si vede proprio perfettamente. No, si vede bene. Ma praticamente al centro. Tu perché non puoi tenerla sollevata, giustamente? Al resto tanto, se stai sullo zoom, ti posso venire a dare una mano. Eccola qua. La barra l'abbiamo rimossa. Si vede. Su tutte le barre delle nuove schede matine, le nuove motherboard. Sotto c'è una gommina fatta apposta per dissipare. Ok? La vedete? La vedono. Guardate. E si scioglie un pochino con... È una soglia di sorta di pasta gel quasi, possiamo dire. Allora, andiamo a rimuovere la vite di sostegno del nostro disco. La vitina, vedete? Così la vedete proprio da vicino stavolta. Guardate che zoomone che vi facciamo. Eccola qua. Vedete? È stato bloccato. Poi quelle barre laterali bianche che vedete sono quelle che diventeranno RGB. E così Fabio ha fissato la prima parte. Ora, andiamo a prendere le nostre memori RAM. Ben, Gans della Corsair. Ben 32 giga ragazzi. 32 giga. Guardate, poi qua sono quelle RGB, guardate che spettacolo ragazzi. Io per quanto mi riguarda, sono ormai credo due o tre computer che monto solo Corsair Vengance nel mio computer. Sono di un'affidabilità queste RAM ragazzi. Sono 3.600 di frequenza, diciamolo, perché insomma è una bella frequenza per quello che stiamo andando a montare. 3.600. Guardate che cos'è. Poi dice la Corsair, madonna che qualità ragazzi, che qualità. Carissimo Alessandro, a tatto sono anche belle. Ah no, ma sono belle. Cioè hanno una dissipazione in alluminio sopra. Sì. Dove in realtà questa barra che voi vedete, questa trasparente, era come la nostra XPG del nostro SSD. Sì, ma sentilo Alessandro. No, perché io ho quelle vecchie, madonna ragazzi. Il materiale è cambiato, se lo sentite, è tutto di alluminio, quindi la copertura è tutta completamente, quindi la RAM è raffreddata al massimo. Sono proprio gelate. Le 1600 possono essere overclockate, quindi hanno bisogno giustamente di una dissipazione importante sopra. Belle, belle, ma proprio si sente, a parte la leggerezza, ma si sente la qualità proprio. Poi dice la roba buona. Me ne vado. E te ne vai? Sì, me ne vado perché devo zoomare. Io sono un zoomo. Sono un zoomatore. Sono un zoomatore, sono un zoomatore. Aspetta, scusa, ma che gli fai vedere? No, io le monto e poi le tolgo. Ah, proprio così, perché? Sì, perché mi piace, vedi, io la volevo vedere montata. Aspetta, allora, andiamo a zoomacchiare. Tutte le nuove schede matri non hanno più la doppia lingua, ma solo da una parte, e quindi basta sollevare, tac, e si viene su via, in questo modo. Eccolo là, lo vedete? Voglio vedere che prima non si vedeva qual è che cosa ho sollevato. Cosa ho sollevato? Sì. Eccolo qua. Eccolo là, lo vedete? Io non si vedeva. Vado pure a stringere, così ve lo faccio vedere proprio bene. È un dentino solo. Sta uscendo fuori. Ok, perfetto. Se vedete, qui c'è il dentino. Esatto. Qui, no. Esatto. Non c'è nulla. Allora. Non l'abbiamo detto, premetto che le motherboard che lavorano in dual channel, vedrete sopra che ci sono due colori, nero, grigio, nero, grigio. Bravo. Sulla motherboard è già serigrafato, io ve l'ho messo già così, ma in realtà, se voi vedete qua, c'è scritto DIM A1. Non so se riesco, aspetta. Sì, Alessandro, come no. Vediamo se riesco a stringere, credo che questa nostra... C'è il dito che mi fa l'ombra. Guardate, lo sposto così non c'è più ombra. Eccoci qua. Ah, vedi, ci sono riuscito, zitto. Guardate. Leggermente... Aspetta che mi sposto... Grande. Così lo leggono proprio bene. Capisco che al contrario dovremmo spostare... Vabbè, ma si legge, si legge. Quindi, Alessandro, come vai a vedere? C'è scritto, vedi, DIM A1, A2, B1, B2. Dove c'è l'asterisco, è identificato dove devono essere messe le prime due memorie. Quindi, sì, qui in questa situazione è DIM A2, DIM B2. Esatto. Per mandarle in dual channel. Quindi slot A2, partendo logicamente dal basso in questa videata. Esatto. Quindi sarà il secondo e il quarto che andranno... Un'altra cosa che abbiamo detto, che adesso si sta vedendo con lo zoom, la nostra CPU è una LGA1002, quindi è il socket di nuova generazione. Per abonsi, vero. Lo vedete qua dove c'è scritto, scusatemi che sono passato davanti col dito, ecco qua. LGA1002. Quindi questo è il nostro nuovo socket che stiamo montando oggi, su questa nuova motherboard. Ok? Adesso io lo ritiro giù, andrò ad inserire di nuovo la mia motherboard nel chassis, la mia memoria. Adesso la inserisco al volo. Su un 4200 l'abbiamo fatto vedere. Traccate, messa. Basta sentire lo stack. Richiudiamo la nostra confezione che andremo sempre a fornire al nostro cliente e adesso andiamo a posizionarci per montare la scheda madre sul nostro chassis Corsair. E vai. Vi faccio vedere dove ci sono già posizionate le torrette che Corsair ha predisposto. Ha predisposto però per una ATX normale, quindi se eventualmente avete una motherboard più piccola, una micro ATX o una ITX che è ancora di quelle più piccoline, dovremmo andare a spostare le nostre torrette a secondo le nostre, dai nostri fori della nostra scheda madre. Quindi adesso Alessandro vi farò vedere qui, se facciamo uno zoom caro Alessandro, eccola. Una, due, poi mano a mano saliamo sopra, aspettate che ve lo faccio vedere io, eccola qua, e le altre sono dalla parte opposta, eccole qua, eccole, eccola, vedete? E in corrispondenza ci sono le altre due sotto, senza che ve le facciamo vedere, eccola qui, esatto, l'altra che è in corrispondenza con queste due e l'altra due sotto. Di conseguenza c'è anche l'altra perché in realtà sono tre, sei, nove in totale. Aspetta che gliela faccio vedere così allarghiamo. In realtà noi andremo adesso solo a utilizzare le prime tre e le tre centrali, ok? Perfetto. Ora adesso tirerò giù e inserirò all'interno la nostra scheda madre. Bene, abbiamo montato all'interno già del nostro chassis la scheda madre che adesso vi mostrerò. Adesso ancora non l'ho fissata con le viti, ma è bloccata solamente appoggiandola sulle torrette. Madonna, già è bello così, guarda che spettacolo. È bello ragazzi. Ah, una cosa che voglio far vedere. Pensate che nei chassis, quelli economici, le viti sono tutte mischiate insieme. Guardate il corsiere che ha fatto. Madonna, guardate. Ogni vite è al posto suo. Spostati un po' dal centro sempre. Bravo, vedi? Guardate poi dice la qualità, guardate. Queste sono finezze. Ma guardate ragazzi, è la finezza che fa la differenza. Adesso? Adesso vado ad avvitare le cose, no? Ah, allora chiudo. Scusa, che vi faccio vedere? Che avviti? No, fai quella cosa veloce. Quando gli piace a lui, quando metto zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz io non vi voglio dire niente sono scusate che guardo sotto perché ho il monitor sotto sono le 9.33 di sera e noi stiamo facendo un bel video per voi adesso andremo a montare esternamente a preparare il nostro dissipatore a liquido della Corsair quindi adesso toglieremo il nostro chassis ci metteremo insieme sul nostro banchetto e monteremo insieme intanto il nostro dissipatore dopodiché lo andremo a collocare all'interno del nostro cabinet ma sentite questo bottone c'è il bottone dell'accensione ragazzi non so se avete avuto esperienza di altri cabinet sono quei bottoni tipo a sfioramento a semplice clac a contatto quando li toccate solitamente quelli fanno proprio questo ragazzi lo dovete con la lingua così ma rende però avete capito il senso questo ragazzi sembra quasi un bottone ma se lo spiega un cliente sopra lui capisce subito dopo che hanno visto il video vedrete che pleppe lo capiscono perché lo capiscono è suono è un omatopeico io perché non c'ho wikipedia perché sono altrimenti un omatopeico dopo un omatopeico ritorna ritorna bello ragazzi bello 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 passiamo a no lo spostiamo e come ho detto andiamo a montare il nostro io me ne vado vado a zoomare non mi vuole vicino lo fa apposta io me ne vado ciao ti lascio solo ah eccolo qua fabietto allora qui che dobbiamo fare dobbiamo montare il nostro dissipatore eccolo è quello che parlavamo prima attenzione alle luci eccolo qui lo vedete benissimo ok stiamo parlando di un dissipatore al liquido dell'ice q h 115i dell'elite capellix che è sempre corsair si si no è più troppe 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 singole troppe singole troppe singole senti io gli monterei la scatola che è più bella però che ho fatto io precedentemente per sei stato un furbo che ho fatto non ho fatto nient'altro che montare vedi alessandro se puoi venire poco poco avanti per cercare di velocizzare il nostro video abbiamo solo montato le viti mentre fabio è in posa plastica io direi che prima di andare a montare la ventola caro fabio però dobbiamo fargli vedere anzi non gli diciamo nulla mi fai fare solo una zoomata di quello che tu sai aspetta e fabio mettimela in modo tale abbassala guardatela bene questa cosa guardatela bene lo vedete è una basetta semplice che va posteriormente al pro dove sta il processore e a rigirano ancora un'altra volta così ragazzi intanto capiscono e guardano con attenzione guardate vedete ok adesso non vi diciamo nulla dopo aver montato il nostro dissipatore nello chassis prima è partita una sci e andiamo a mostrare quell'oggetto misterioso che prima alessandro ci ha fatto fare lo zoom adesso passo la parola a lui che vi spiegherà questo oggetto che dovrebbe essere posizionato dietro la nostra schiata madre per poter ancorare il nostro panora facciamoglielo vedere fa tu treggi davanti perché purtroppo quando si fanno questi montaggi vedete ragazzi guardate vedete questo logicamente va in questo modo quindi è tale che se posso fare un po bravo vedete ragazzi noi prendiamo questo lo andiamo a montare esattamente qua vedete ci sono dei buchi uno due tre e quattro guardate ragazzi adesso fabio ve lo fa vedere vedi allora se andiamo appoggiare questo è l'oggetto vedete io lo posiziono come è arrivato dalla casa madre lo vado a posizionare su uno dei primi poi guardate che succede vedete che non combacia ragazzi assolutamente allora leviamo lo zoom così questo era l'importante per farvi capire il concetto che cosa è successo ragazzi che io e fabio ci siamo impazziti perché siamo andati a guardare le istruzioni la scatola il pezzo tutte le bustine tutte le viti ma come si monta come si monta tant'è vero che abbiamo ragione dico qui bisogna sostituire il pump perché effettivamente non funziona forse ci siamo sbagliati non va bene com'è la sigla fabio aiutami del processore mille 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 due esatto non va bene per i nuovi processori con la predisposizione che si appunto si identifica con la sigla mille due dico strano perché di solito queste cose dopo tutti questi anni non ci siamo mai sbagliati guardiamo più attentamente andiamo sul sito della corsair andiamo a verificare abbiamo visto che un altro pump aveva la sigla mille due sulle foto non la riportava insomma ragazzi siamo diventati veramente matti e su tutto il manuale eravamo due diciamo bella siete due tonni no perché ragazzi provate abbiamo guardato tutto non c'è un solo riferimento appunto a questo socket mille due a un certo punto sul sito è stato un caso vediamo che una di questi pump era predisposto per il mille due tanto dia la dobbiamo comprare quello poi andiamo nelle specifiche vediamo che anche questo aveva una specifica mille due ci siamo messi di punta abbiamo preso le bustine su una bustina c'era in piccolo mille due a vedi guarda fabio ve la fa anche vedere vedete guardate mi avvicino forse dovreste riuscire a leggerla vedete eccolo qua ragazzi mille due lo vedete ok ma come funziona ma come funziona ma qual è allora la basetta che va dietro qual è la basetta che non va ragazzi ve la facciamo semplice ecco perché abbiamo fatto lo zoom se io adesso mi metto qua ragazzi sparisco un attimo vedete queste vitine guardate si possono spostare che adesso che ve l'abbiamo detto la prima cosa che direte o chi già lo sapeva ammesso che lo sapesse ma allora siete tonti voi ragazzi quando l'abbiamo preso noi l'abbiamo pure provato erano talmente bloccate queste cose oltretutto coprivano le vedete adesso ci sono delle fessure che forse un pochino si vedono prima le viti stavano perfettamente al centro non si vedeva nulla adesso fatto sta che siamo tonti noi può darsi pure ragazzi ma l'esperienza di saperlo è certo che la volta dopo l'errore non lo fai ma io dico santo dio corsair io e fabio sono diventati matti ma vuoi mettere una nota un'immagine un foglietto una freccina guardate che queste non sono bloccate perché voi ragazzi che magari ne montate una sola ci sareste arrivati subito noi che ne montiamo 100 che tutte hanno praticamente il blocco fisso o il buco fisso sapete com'è deformazione professionale tu vai sempre allo stesso modo quindi dai per scontato che questa sia fissa purtroppo succede ma volete corsair mettere una nota aggiungete che ne so nella garanzia nel manuale benedettissimo un fogliettino mettete un fogliettino le altre case asus per esempio lo fa dove c'è una freccina dove guardate ragazzi questo è standard si muovono queste levette non c'è scritto sul sito non c'è scritto da nessuna parte vi voglio dire una cosa e andare sul sito della corsair e cercate il pump ad acqua proprio raffreddamento al liquido bravo e andate a cliccare sui vari modelli vi fanno vedere le immagini dove il nostro bracket non è predisposto per il 1200 lo dicono proprio cioè danno l'esempio dei vari bracket per 1150 1151 1300 e quanto altro ma non danno per 1000 quindi uno da per scontato la prima cosa che fa non va bene basta quello oltre quindi è un consiglio che diamo forse per la corsair per non perdere anche lei le sue vendile per renderci un pochino la vita più facile di fare o aggiornare quell'immagine che è un po più datata ma aggiunge un foglietto nel manuale forse grazie ad alessandro che poi siamo andati sulle specifiche tecniche scritte quindi parola per parola dove parlava anche del socket come vi ho detto precedentemente che era un 1200 però altrimenti io avrei scusatemi sarei andato oltre avrebbe acquistato un altro pump perché quello non andava bene per il mio per il mio caso quindi è un consiglio che diamo forse sbagliamo anche noi ci siamo andati troppo veloci dovevamo essere più accorti ma guardate ragazzi non ci si arrivava veramente cioè non è che siamo nati ieri oggi ma vabbè poco poco prima quindi qualche esperienza in più di questi di questi montaggi ci siamo ci siamo soffermati tanto su questa cosa perché vi assicuro ragazzi da tutte le case poteva ma non dalla corsair cioè corsair la adoriamo come casa è veramente fantastica quindi è una pecca che ci ha fatto perdere una maria di tempo ripeto può darsi per nostra stupidità benissimo ma vi assicuro prendetelo guardate quello che vi stiamo dicendo e forse noi diciamo abbiamo ripeto una linea di produzione ormai collaudata da 30 anni ma vi assicuro che ci potete capire anche io guardate eh questo è il manuale e poi Alessandro vi farà vedere in più dettaglio vedete quelle parti sopra quelle viti doppie e voi vedete scritto sotto non c'è scritto 1200 e neanche sui due bracket non c'è scritto 1200 quindi in realtà avendo acquistato questo oggetto è come se l'avessi acquistato sbagliato un ragazzo poverino che era alle prime armi si sarebbe completamente arenato o non l'avrebbe acquistato o l'avrebbe rimandato indietro quindi tanto più per la corsair ma anche per i ragazzi che magari poi uno dice mannaggia ma diciamo rimani un attimino male no rischi pure la casa rischia che poi la persona che l'ha acquistato sono quelle cose che uno dice no corsair la prossima volta no perché per non aver aggiunto un foglietto non ha messo una specifichina bravo una postillina o per aver aggiornato sul sito che è fatta bene anche per il socket 1200 scusateci lo sfoghetto ma era anche giusto tanto Alessandro taglierà quelle parti che non servono sì 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 io arrivato a zoomare io vi vado subito a posizionare velocemente togliendo il l'adesivino 3m che è sotto ok andiamo a questo punto spostando logicamente abbiamo già spostato precedentemente come vedete combacia perfettamente ragazzi veramente è una stupidaggine perché vi assicuro che delle volte succede che uno lavora come si dice per comparti quindi dai per scontato cose che magari fai da da anni e quello va all'interno di quella bustina che vi abbiamo fatto vedere Alessandro c'è questa bravo così si vede benissimo esatto che non è nient'altro che attenzione noi abbiamo visto questa ma sempre nelle all'interno di quella bustina dove c'era scritto 1200 questo è più corta la vite la vedete ok bene in questo caso a noi ci serve quella più lunga e adesso non girerò il cabinet di nuovo ma lo andrò solamente ad avvitare sul nostra torretta perfetto benissimo ora e voilà dopo aver messo la torretta andiamo a sistemare la nostra il nostro pump adesso caruale ci fermiamo due secondi perché così vado a mettere la pasta termica sopra il nostro processore e facciamo vedere il montaggio adesso posizionato il nostro dissipatore su quelle torrette che abbiamo messo adesso nell'altra bustina vi faccio vedere più vicino ci sono queste torrettine andranno avvitate sulla vitarella chiamiamola vite che abbiamo posizionato prima obbio intanto ha posizionato le viti io direi anche di andare a fare un bello zoom in modo che ve lo facciamo vedere bene guarda qui come bello così luminoso vedete le viti fabio io le puoi far vedere quale sono eccole la una vedete una due eccola lì poi ci sono sopra la tre e la quattro adesso ed eccola di là bravissimo quella perché giustamente fabio sta guardando dal monitor quindi è l'opposto questa adesso l'abbiamo semplicemente avviare sopra adesso come vedete fabio con il cacciavite va a serrarle ragazzi ricordate vedete cosa sta facendo ve lo ribadiamo ancora sembra scontato o chi lo sa fa ridere ma chi non lo sa importante vedete a croce questo si chiama avvitamento a croce in modo tale che non si va a spingere il processore solo da un lato mai serrare completamente tutte le viti ma piano piano sempre con un movimento a croce andare a far scendere come si dice come possiamo dire parallelamente il il processore verso appunto il pump verso il processore ed eccoci al pezzo forte che gli diciamo che gli diciamo grazie furbacchione che gli diciamo e niente la apriamo la scopriamo insieme alessandro e l'andiamo a posizionare vediamo a proposito della della giusta nota che hai fatto anche il packaging di questa scheda alessandro ragazzi bello bella che cos'è è un vetrino che si posiziona sopra alla schedina poi la faccio vedere montata allora sono quattro chili e mezzo di ciccia mamma mia che mappettone ragazzi credo non si possa definire in altro modo mappettone e la vado a mostrare tre ventoloni ma guardate com'è fatta bellissimo fagliela vedere pure dietro mazza che bella ragazzi niente bella tiè peccatevi e anche dietro guarda non è fatta bene la piastra dietro fagliela vedere giragliela proprio la dietro dietro posteriore della piastra ecco la tua per vedere tutto guardate mazza come è fatto bene questo è metallo non è guardate che bella GeForce RTX aspetta che sta al contrario ma faccio vedere tutti i bravi Inno 3D ai kill guardate che roba ragazzi bella è fatta veramente bene o adesso subentra il famoso discorso di provare se effettivamente nel posizionamento ci daranno fastidio i cavi del pump esattissimo dato che la scheda grafica vi faccio vedere ci va ad occupare due slot laterali andiamo a toglierli direttamente esattamente due e al primo e al secondo ci prendo caro Alessandro ecco qua anche perché poi le vite le riutilizziamo esattamente e andiamo a levare le due finestrelle eccole là via direi che che ci può stare potrebbe se li alziamo leggermente potrebbe andare bene potrebbe andare bene potrebbe andare bene vediamo adesso la fissiamo e ve lo facciamo vedere perfetto volevo farvi notare una cosa che Alessandro ci ha messo del suo su questa cosa ma sapete perché? guardate che è andato a fare è andato a montare il plexiglass che ci abbiamo messo circa 20 minuti per capire che doveva andare là perché ve lo devo dire sinceramente che in due non c'era scritto e invece eccolo qui perché sotto questa piccola barretta ci sono dei led dove andrà a illuminare la parte in plexiglass quindi diventerà rgb anche lei poi io lo facciamo vedere e Alessandro l'ha voluto montare perché gli piaceva questa cosa andiamo oltre allora sul cabinet abbiamo il connettore usb 3 che adesso vi andrò a far vedere eccolo qua che esce pian pianino vedete questo qua eccolo qua e andrà a essere posizionato sulla scheda madre dove c'è l'usb 3 che è questo qui che vi sto facendo vedere bene vi metterò la mano davanti per montarlo tanto lo sanno come fai ancora non l'hanno fatto che si può montare senza mano l'importante è che loro vedano dove sta così un'idea se la fanno benissimo perfetto e il cavo usb 3 e uno è andato poi andiamo a montare l'usb 3.0 adesso prendo il cavo lo faccio passare sempre da questa parte e lo andremo a posizionare la parte di sotto lo vedete? sì sì perfetto eccolo qua giù anche lui ha un verso perché noterete che da una parte c'è un tappino sulla scheda madre ma anche al dentino vi fa proprio rima quasi e quindi lo andremo a posizionare su una delle porte usb anche perché nell'altro verso ragazzi non vi entra quindi non potete danneggiare nulla non potete danneggiare nulla l'importante è che non forzate ecco qua posizionate questo è andato ora andiamo a posizionare un altro cavo che è quello dell'audio quindi del microfono e delle cuffie ma questo andrà montato quasi qui giù in fondo è sempre quello più interno è quello più interno verso la fine esatto adesso ve lo vedete anche qui ha un verso da una parte manca il dentino e dall'altra c'è il tappino quello che sta proprio al posteriore del computer ecco qua è quello più vicino è quello più vicino poi su questo chassis abbiamo un adattatore particolare che è quello dell'usb-c che andrà posizionato vicino l'usb-3 che è questo qua vicino è una specie di connettore eccolo qua è un attacco nuovo infatti ok eccolo qui quello che vi sto facendo vedere adesso questo qua eccolo per chi monta computer da una vita questo è un attacco nuovo eccolo qua fatto fino a qui abbiamo montato i nostri chiavetti perfetto ora non ci rimane che montare le ventole l'alimentazione delle ventole l'alimentazione del nostro pump e l'alimentazione che Corsair ci ha fornito del suo controller che è questo eccolo qua vedete adesso Alessandro vi ha fatto uno zoom all'interno dello chassis sulla scheda madre dove andare a posizionare i nostri cavetti power switch led reset e quant'altro allora vi faccio vedere una curiosità ve lo tiro un pochino più su vedete le serigrafie adesso è un pochino più chiaro allora sono power led hd di led power switch reset speaker power led allora i cavi ve lo dico perché ci è già capitato molte persone le montano in verticale sbagliatissimo guardate la serigrafia hd di led in orizzontale dove è scritta la serigrafia verso il basso quindi andremo a utilizzare i primi due esatto questi verso il basso questo invece power led aspetta che vi metto in qualche modo che si può vedere eccolo qua sono dalla parte di sopra quindi andremo a prendere la parte di sopra di cavi quindi come se fossero due binari ma separati esatto mi raccomando non in verticale ma di metterli sempre in orizzontale come il reset quindi hd di led andremo a mettere il positivo qui il negativo di qua no il reset è libero avanti se no non capiscono ecco il reset questo uno qui e uno qui perfetto e poi si lascerà libero e si seguirà di solito sulla scheda madre c'è scritto come posizionarli eccolo vedete vedete reset esatto ognuno di questi ci avrà power led e poi ci sarà il power switch che sarà quello che ci sentirà per accendere la nostra motherboard quindi voi facendo riferimento alla scritta sul cavetto e prendendo riferimento di quello che c'è sulla piastra madre come vi ha spiegato Fabio dovete semplicemente attaccarli di conseguenza finito di montare la nostra cavetteria quindi abbiamo assemblato e chiuso con gli stretch che Corsair ci fornisce quindi eccoli andiamo a lasciare fuori la parte che vi avevo detto precedentemente dei due alimentatori sia del controller RGB e delle ventole andiamo a montare il nostro 750 della Guler Master e li attaccheremo anche quei cavetti ho appena aperto il nostro alimentatore Corsair allora è un full modular quindi abbiamo tutta la cavetteria sia quella della schiata madre della schiata grafica e altro della parte del hard disk e masterizzatore quello che volete tutto modulare che cosa c'ha in particolare questo alimentatore della Corsair è un RGB quindi possiamo comandarlo con un nuovo adattatorino che hanno messo che è questo quindi vi farò vedere che all'interno della confezione ci ha notato questo cavetto che si andrà a collegare direttamente qui ecco fatto l'altra parte andrà collegato dove precedentemente abbiamo collocato il nostro hub con tutte le alimentazioni e il resto in modo tale che il nostro controller hub controllerà anche l'RGB della nostra ventola se invece non abbiamo montato questo hub oppure non lo vogliamo ma lo vogliamo gestire direttamente sulla schiata madre ci avranno dato un adattatorino che da questo uscirà sulla schiata madre dove c'è l'attacco RGB quindi lo possiamo poi pilotare dal software della schiata madre questo è tutto che spettacolo ragazzi senza parole noi stavamo zitti in contemplazione questo è quanto guardate che roba immaginatevi il ragazzo quando se lo metterà sulla sua scrivania che goduria si può dire che goduria gran Fabio santo Fabio guardate che cos'è un nuovo spettacolo adesso gliela levi tu gliela levi guardate ragazzi guardate che spettacolo questo indiretta considerate che anche questo monitor è di quel ragazzo qui come si dice a Roma si rosichiamo tutti è vero ragazzi guardate che popò di è uno spettacolo è uno spettacolo al momento vi facciamo vedere il BIOS per il momento logicamente non tocchiamo il BIOS perché sennò qui veramente già il video penso che non so quanto sarà durato e se lo dovremo spezzare perché immagino sarà veramente troppo lungo quindi per il momento il BIOS non lo tocchiamo eventualmente in qualche altra puntata lo rifaremo carichiamo il sistema e mettiamo il test così vi diamo anche un'idea di che potenza ha questa macchina a fra poco sistema caricato Windows settato schermo anzi sfondo pazzesco poi il ragazzo si sceglierà quello che vuole però fa la sua sporca figura andiamo a lanciare il test e vediamo che prestazioni ci da questa macchina grazie Grazie a tutti. 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 Perché se, sempre se, vi siamo piaciuti, un like non fa mai male e il commentino buttatelo là, tanto male non fa. Giusto? Grazie a tutti.